La Polizia del Stato, nell'ambito del progetto denominato Alto Impatto Freedom, contro il Caporalato, ha visto impegnate le squadre mobili di Agrigento, Forlice, Sena, Latina, Lecce, Matera, Ragusa, Salerno, Siracusa, Taranto, Verona e Vibo e Valencia. I poliziotti della squadra mobile sono stati coedivati dai reparti di prevenzione e crimine e dai gabinetti regionali di Polizia Scientifica e dagli ispettorati territoriali del lavoro. Nel corso dell'operazione è stata accertata l'insorferenza di norme contributivo previdenziali di sicurezza dei luoghi di lavoro. Rispetto alla prima fase del progetto avvenuta dal 26 al 30 giugno è stato ampliato il numero delle province da 6 a 11 e delle regioni monitorate da 6 a 8. Tra il 17 e il 22 luglio sono stati svolti servizi di controllo, rilevamento e contrasto, identificando 632 persone e controllando 50 aziende. In provincia di Latina sono stati arrestati tre imprenditori per sfruttamento di manodopera, in provincia di Matera sono stati tre deferiti. Sospensione di l'attività e multe nella provincia di Agrigento e Verona. A Ragusa sono state 124 le persone controllate, 12 le aziende, 3 gli arresti e 9 le denunce. A Santa Croce è tutto regolare, a Vittoria 4 denunciati, a Ispica e a Cate 2. 126 sono i braccianti agricoli identificati, 17 rumeni di cui 12 donne, 41 africane di cui 2 donne, 11 albanesi, 15 bengalesi, 10 pakistani, 5 indiani e 27 italiani. Tratti in arresto la terra Giuseppe, 49 anni, nato a Comisi, titolare di un'azienda agricola incontrata a Randello a Ragusa e i fratelli Emanuele Massimo Giamblanco, 48 e 40 anni, titolare di un'azienda incontrata a Marsa ad Ispica. La terra impiegava 13 braccianti agricoli di cui solo 4 avevano un contratto. I Giamblanco invece impiegavano circa 30 lavoratori che, seppur quasi tutti ingaggiati, venivano sfruttati quotidianamente. La terra impiegava 13 braccianti agricoli di cui solo 4 avevano un'azienda agricola incontrata a Marsa ad Ispica.